Quiz a premi con Gerry Scotti su canale 5, il signor Giovanni è imbattuto da 30 puntate, ha eliminato tutti, praticamente il signor Giovanni è un cervellone, ha 5 lauree, siamo arrivati all'ultima puntata, il signor Giovanni dovrà rispondere all'ultima domanda per assegnarsi 5 milioni di euro, se sbaglia sta domanda verrà eliminato. Quindi Gerry Scotti gli dice allora Giovanni sei pronto per 5 milioni di euro dovrai rispondere a quest'ultima domanda se no verrai eliminato e Giovanni sì sono pronto Gerry allora Giovanni avrai 30 secondi sei pronto per la domanda e Giovanni sì Gerry sono pronto. Allora Giovanni che cosa disse Eva ad Adamo la seconda notte di nozze via i secondi tu 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 Giovanni porca miseria e che gli disse Eva ad Adamo la seconda notte di nozze oddio io questa naso proprio porca miseria. Sbrigati Giovanni mancano 20 secondi cacchio oddio io questa naso proprio mannaggia miseria non la so proprio non la so proprio sbrigati Giovanni mancano 5 secondi niente questa naso proprio me sa che stasera ho più un culo Gerry Scotti risposta esatta.